Anche a 40 anni Antonella Mosetti accende le fantasie degli uomini sfoggiando un fisico perfetto e quasi più sensuale di quando era poco più che maggiorenne e si faceva conoscere Annonella Rai. Curve mozzafiate e silhouette da perdere la testa, la Mosetti non nega ai suoi ammiratori una buonanotte decisamente ad alto tasso erotico e dedica a loro su Instagram un selfie molto piccante allo specchio. Con una t-shirt bianca di qualche taglia più grande la bella ex fidanzata di Aldo Montano, cosa infatti in un autoscatto con parte del suo ammiratissimo lato bimba e la mostra lasciando intuire che gli slip non sono poi così necessari in casa. Quanti dei suoi fan secondo voi avranno rinunciato a dormire sonni tranquilli e avranno preferito fantasticare sulla showgirl in versione lolita? Sicuramente tantissimi considerando che il suo profilo è seguito da oltre 90.000 persone che ogni giorno ammirano le sue forme la ricoprono di like, cuoricini e complimenti e non facciamo fatica a capirne il motivo.